buongiorno allora siamo su monopoli devo fare ancora le quest le daily scorso torno sono arrivato settimo quindi non un grosso risultato ma magari questo andrà meglio giocherò a per 50 iniziamo subito a fare qualche tiro poi iniziamo malissimo poi vado alle donazioni ok abbiamo fatto una quest l'ultima è raccogli tre adesivi non credo di riuscire a raccogliere tre adesivi o meglio forse sì perché c'è il torneo ora intanto apro questo che magari sai becco li becco tutti anche se è un po utopia e mi dà il pacchettino viola così non avrei nemmeno problemi ok cinque dati dovrebbero un attimino aumentare anche questi premi qui perché da veramente poca roba ok altro regalo altri cinque dadi quindi siamo a 10 incredibile non lo vincerò mai 15 dadi ok non lo vincerò mai perché non ho neanche trovato ecco infatti va bene allora la seconda opzione è cercare di beccare vacchetti nel torneo quindi quindi gioco un po per cento magari mi da un 7 me l'ha dato continuerò per anzi no per mille adesso allora facciamo una bella cosa visto che sicuramente utilizzerò il bug direi che rimango in questa posizione specifica per utilizzarlo visto che c'è anche la prigione vicina magari mi va bene quindi attacco alice e poi utilizziamo il bug visto che ho il per mille ovviamente sto però e riattiverò il video in questi cinque minuti che lo utilizzo poi poi basta cinque minutini eccoli qua ah ma il pacchetto c'era ah beh li ho già presi allora lo utilizzerò comunque ritiro dopo perché vado a utilizzarlo tiriamo vediamo se da un 5 o un 10 ci ha dato 2 provo a fare un altro tiro se no si risetta si risetta ragazzi ok eccomi comunque sono due le opzioni o becco la la stazione visto che non ho nient'altro da prendere o becco la prigione e mi deve andare anche bene quindi diciamo che come tiro ottimale sarebbe il 10 o comunque fare 10 in due tiri anche se comunque a tre minuti è veramente poco proviamo di nuovo vediamo se ci da un 5 o un 10 ci ha dato 5 però deve anche andar bene e non è andato bene quindi la prigione non va bene mi deve proprio dare un altro 5 tassa ultimo tiro ma niente si risetta di nuovo ok eccoci qua allora come unica out quindi ho il 10 in due tiri quindi due tiri una stazione o 10 istantaneo anche se 10 non è facile credo di riuscire a farmi un ultimo reset dopo questo in caso niente dammi 10 dai oh eccolo qua attiviamo internet peccato che è una distruzione ma abbiamo comunque un altro tiro dopo questo ma ci dovrebbe dare di nuovo 10 anche perché tempo di fare un reset non credo di averlo però comunque sia mi accontento di questo quindi abbiamo un altro tiro a per mille se ci da un altro 10 altrimenti niente ma sono 4000 punti balangate di premi ovviamente quanta roba ci ha dato beh sarebbe top fare 10 e prendere una rapina io ci provo comunque magari me lo da c'è dato 9 incredibile provo a fare per uno un altro per uno eh ma è difficile che mi dia 4 3 ah peccato però io ci voglio provare lo stesso perché ho ancora del tempo attacco a caso se il gioco me lo permette dai perché non mi attacca ok e provo l'ultimo tiro 8 secondi dammi un 10 niente si resetta allora ok rieccomi qua allora 31.000 dati siamo qui siamo sesti al torneo beh dai c'è pacchettino dai magari prendiamo un'altra stazione perché così perlomeno prendo anche il pacchettino il pacchettino blu anche se non mi darà assolutamente nulla però perlomeno vado avanti con i premi sto giocando a per cento gradirei niente posso avere cortesemente una stazione grazie di nuovo distruzione c'è proprio non mi vuole dare le rapine va bene dai non importa ora passo alle donazioni e poi chiudo il video attacco sempre l'arice così non vi disturbo consiglio anche a voi comunque di farvi l'account così potete attaccare sempre i vostri e non avete paura di sbagliare va bene tutte doppie ovvio allora guardo un attimino i premi soldi e dadi ok quanti sono sono 30 i premi no 25 questo giro va bene ritiriamo l'ultima missione che l'abbiamo completata ovviamente doppie riusciamo a sbloccare l'altro assolutamente sì e saranno ovviamente doppie ok passiamo alle donazioni aspettate devo prendermi anche i 10 dadi qua da vincenzo questo è per il baule della comunità allora donazioni abbiamo ilenia che vuole il lieto fine del 713 369 e 12 no questo è il 12 13 lieto fine ce l'abbiamo solo 4 donazioni questo giro ho preso queste missokoa missuccia mi sa ho sbagliato a scrivere set recita del set 9 ce l'ho recita assolutamente sì eccola qua missuccia tieni ho sbagliato poi abbiamo damiana damiana incredibile che abbia un'amica che si chiama damiana visto che sono damiano vuole ricercato ho veramente damiana tra gli amici sì ce l'ho veramente incredibile e poi abbiamo GX Michele che vuole per le pinne che ho visto avercelo eccola qua andiamo subito a dare a GX Michele eccoti la carta e abbiamo finito quindi io vi saluto qua siamo a 1036 ce ne manca ancora siamo sesti al torneo e io vi saluto e ci vediamo alla prossima vi raccomando like iscrizione che siamo quasi a 900 arriviamo a 1000 e vi ringrazio